eccoci cari amici domenica sera ultimo incontro della settimana passata primo della settimana prossima siamo alla fine del mese di gennaio allora allora guardate vaccini non significa ormai non è solo ormai un termine sanitario un termine di prevenzione un termine medico vaccini ormai è un termine politico è un termine di potere ma è un termine fortemente politico vedete alcuni paesi di basso livello e in questo caso purtroppo anche l'italia ormai sono arrovellati in fatti da quattro soldi sapete benissimo che il governo italiano lo stato italiano è l'ultimo a essere rifornito dalle grandi società internazionali sapete che il governo italiano l'ex governo italiano sta facendo finta di diffidare le multinazionali sapete che il presidente conto ha mandato all'avvocatura generale dello stato di diffidare la psaifer prendendo in giro gli italiani perché come ben sapete il governo italiano non ha fatto contratti con nessuno li ha fatti la comunità europea la commissione europea l'italia dal punto di vista politico ha ormai una importanza pari a zero e guardate guardate lo scenario lo scenario politico dei vaccini perché è inutile negarlo la battaglia la terza guerra mondiale del mondo si sta battagliando sui vaccini ecco noi stiamo dicendo da tanto tempo e oggi i giornali riportano questo titolo quello che stiamo dicendo raccontando da mesi eccolo qui guardate russia e cina usano i vaccini per conquistare mezzo mondo putin e xi stanno già esportando ovunque i loro prodotti tranne che in europa ecco vedete non sono scherzi quando qualche sciocco parla di con i complottisti ma di che cosa state parlando è in atto la terza guerra mondiale sul più grande business che sia mai stato concepito nell'intero mondo nell'intero mondo e è i giornali riportano guerra e cina si sta russia e cina si stanno spartendo il mondo sui vaccini e che sta succedendo sta succedendo che i vaccini disponibili ogni giorno sembra che ne esca uno che dopo una settimana è stato sperimentato ricordiamo tutti che per i vaccini la sperimentazione è sempre stata decennale qui dopo un mese ecco che stanno spuntando altri vaccini e l'ema l'organizzazione europea da da raffi autorizzazioni ma guardate la differenza no guardate il johnson johnson efficace a media del 66 per cento ok dell'ema al siero astrazeneca ignota ignota la protezione dalle varianti ignota ecco guardate questa è una certificazione lo dice l'ema vaccinazione astrazeneca per le persone dai 18 anni senza limiti nelle fasce più anziane il siero può essere utilizzato guardate questa questa frase il siero può essere utilizzato anche sugli over 55 anche se non ci sono ancora dati molti dati perché la maggior parte dei partecipanti avevano massimo 55 anni ma guardate lo lo affermano cioè dicono che vanno bene i vaccini anche per i sessantenni ma non li hanno mai sperimentati sui sessantenni e da 60 anni su tra l'altro tuttavia spiega ancora le lema sempre lente europea non sappiamo ancora se il vaccino astrazeneca sia efficace nei confronti delle varianti ecco come vedete sono asserzioni che fanno loro cioè loro le stesse ditte che li producono e quindi lente che li autorizza lema affermano candidamente che non sanno se questi vaccini sono utili sono utili con le decine decine di varianti di virus che già si sono sviluppati nel mondo sul coronavirus lo dicono loro vedete non sono non sono non sono non sono non sono invenzioni sì qualcuno che tenta di dire la verità lo affermano loro tra l'altro tra l'altro avete visto ogni vaccino a di quelli in commercio ha una soluzione diversa qualcuna organica qualcuna sull'RNA quindi di genetica altri di altri tipi sapete che qualcuno dicono che sia efficace al 60 per cento altri 50 altri l'ottanta altri 90 quindi c'è una immensa varietà di vaccini sul mercato come c'è un'immensa varietà di antibiotici allora 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 dal punto di vista delle regole umane non parliamo neanche di diritto e lo ne potremo parlare allora ci sono cento ci sono cento antibiotici sul mercato andate dal vostro medico a secondo della malattia che avete il medico vi consiglia il l'antibiotico che risolverà il problema se avete una broncopolmonite sarà uno zitromax se avete un ascesso dentale sarà un augmentin tanto per fare una diversificazione perché a secondo della malattia che avete andrà bene un antibiotico sarà così anche per un vaccino no non è che si tira a sorteggio no guardate ecco qui leggiamo insieme questo titolo i vaccini sono efficaci non sono efficaci allo stesso modo ma nessuno può decidere quale fare il governo è orientato a non consentire la libera scelta guardate il governo non il medico cioè non il medico guardate questo titolo che adesso rileggiamo un attimo ci consente di dire ci consente di dire se ci fosse una decisione simile certamente illegale illegittima anticostituzionale ci riporterebbe riporterebbe l'italia ad un paese cinese sembra un regime un regime comunista cioè lo stato non il medico che decide quale farmaco devi prendere il governo è orientato a non consentire la libera scelta e per questo motivo siamo e per questo motivo anche che siamo estremamente soddisfatti che il governo possa essere sostituito con un altro governo con persone più competenti con ministri più saggi con presidenti del consiglio che non stracciano la costituzione italiana e speriamo e stiamo pregando tutte le sere della nostra vita che possa accadere questo che ci sia un governo nei prossimi giorni che dia delle risposte ai cittadini italiani alle imprese ai produttori ai ristoratori un piccolo passo è stato fatto finalmente grazie a dio il presidente del consiglio si è dimesso sta tentando come vedete con le unghie di rimanere aggrappato alla propria poltrona ma 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 su questo diciamo che c'è un'operazione leggermente strana guardate 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 siamo persone sagge siamo cittadini che conoscono anche un pochino le le norme le regole ma la prima carica dello stato è il presidente della repubblica la seconda camere la carica dello senato ma come mai per vedere se c'è una maggioranza se esiste una maggioranza al parlamento il presidente della repubblica da mandato non alla seconda carica dello stato ma la terza carica dello stato ci sarà qualche cosa di strano come mai qual è il motivo si scavalca la seconda carica dello stato la presidente del presidente del senato per dare l'incarico al presidente della camera grillino per ricostituire il il governo forse presidente della repubblica sta spingendo per ricostituire un governo come quello passato scusate stiamo parlando di di dati il dato è che la seconda carica dello stato era presidente del senato invece stato incaricato il presidente della camera ed ecco infatti ecco qua foglia di fico foglia di fico è il titolo dei giornali per esempio mattarella pesca figo per fare di nuovo la solita maggioranza il flop dei responsabili ora pausa di riflessione sì perché perché in questi giorni abbiamo assistito alla scandalosa alla scandalosa all'acquisto politico di senatori al senato per fare gruppi sapete che addirittura alcuni partiti hanno prestato proprio i senatori al nuovo gruppo che dovrà salvare conte ecco siamo ad un mercimonio politico di bassissima lega cioè mentre i cittadini italiani stanno lottando per la sopravvivenza stiamo distruggendo hanno distrutto un paese in tutto il suo tessuto produttivo il mercimonio politico dei senatori per mantenere a galla un governo che fino ad adesso non solo ci ha completamente distrutto perché c'è stata questa connessione tra in preparazione incapacità e covid questa miscellanea sta distruggendo il nostro paese ma vi voglio ricordare ci tengo a ricordarvelo che grazie al nostro impegno e di altri avvocati altri cittadini il governo è sotto inchiesta inutile che che ce lo dimentichiamo ricordo il titolo che ho già fatto vedere ieri e lo riguardiamo insieme ecco qua piano pandemico speranza ascoltato dai pm per cinque ore ipm di bergamo hanno che stanno indagando sul governo non stanno indagando su sul ladro sul ladro di pisa sul governo hanno ottenuto il interrogatorio cinque ore il ministero della sanità e non è finito perché ieri voi sapete che c'è stato l'apertura dell'anno giudiziario l'altro ieri c'è stato l'apertura dell'anno giudiziario il procuratore generale della cassazione ha confermato quello che vi abbiamo detto tante volte vi ricordate le nostre querele che abbiamo presentato in centinaia in migliaia che qualche sciocco diceva tutte quante nel cestino ve lo ricordate sono andate avanti e lo dice il procuratore generale della cassazione guardate guardate ecco ecco il titolo governo indagato per coronavirus decine di denunce girate dalla procura al tribunale dei ministri nel mirino la gestione della pandemia ecco i nostri fascicoli e le nostre querele dove sono andati a finire sono aperte ci sono le indagini in corso e dovrà decidere un tribunale ecco i risultati del nostro lavoro anzi anzi voglio fare un annuncio voglio fare un annuncio già da mercoledì daremo la disponibilità per un nuovo grandissimo intervento dei cittadini italiani per denunciare nuovamente nuovi atti non solo del governo ma anche di chi sta seminando il terrore ieri la settimana scorsa un virologo dei tanti ha fatto dell'intervista in cui ha dichiarato ufficialmente quest'estate non potrete andare in spiaggia ebbene questo è un reato questo è un reato procurato allarme e noi provvederemo a denunciare lui nella procura della repubblica e continueremo a presentare preparare per tutti voi cittadini una nuova serie di querele nei confronti degli ultimi atti di questo governo e vi voglio ricordare che è pronta la session chiamiamola così anche se è una è una citazione congiunta di migliaia di cittadini per il risarcimento del danno scusateci abbiamo avuto qualche ritardo siamo pronti quindi mercoledì o giovedì riceverete tutti quanti gli atti per questo procedimento per chiedere il risarcimento del danno al governo e come vedete l'azione giudiziaria va avanti non ci fermeremo un attimo e continueremo nei prossimi giorni perché come abbiamo visto tutte le azioni giudiziarie che fino a oggi abbiamo posto in essere sono tutte incardinate nei tribunali italiani quindi prossimo appuntamento mercoledì prossimo con questa queste serie di novità giudiziarie a cui potrete tutti partecipare buon buon fine del di questa domenica speriamo in una prossima settimana più serena e speriamo in un nuovo governo veramente speriamo tutti di andare ad elezioni perché siamo democratici crediamo nel voto popolare e vorremmo finalmente votare anche se non ci farete votare comunque prima o poi al 2023 ci arriveremo e lì speriamo che il popolo italiano abbia capito che al governo servano servono persone titolate che abbiano certo onestà ma anche cultura responsabilità non possiamo pensare che il governo che lo stato che le leggi vengono messe nelle mani di certamente onesti ma di venditori di popcorn perché perché la gestione di uno stato è una cosa seria ma la responsabilità è sempre di noi cittadini vi abbraccio a mercoledì